Nella spiaggia di Felfio abbiamo una femmina con due maschi di cui uno è attaccato e l'altro invece è un maschio satellite che feconda le uova che deponde lo succo la femmina. Appena le deponde riesce a fecondarle anche senza essere attaccato. E adesso che l'alta marea sta abbassando ritornano nel mare. Che fatica povera femmina guarda te due maschi uno che lo segue e l'altro è attaccato. Maschio satellite povero rimasto pregato. Vediamo cosa ha deciso di fare. Ben fino a 100.000 uova. Ha deciso di andarsene per conto suo. Cercare un'altra femmina. La coppietta qua si ritira dal mare tranquilli. Naturalmente è per ritornare di nuovo qua domani. Vedere questi animali durante l'accoppiamento è proprio emozionante. su questa spiaggia ogni primavera ritornano. UDE Grazie a tutti.